Allora, buon pomeriggio, eccoci qua nuovamente, buon pomeriggio a tutti gli abbonati, quindi questo è un rapido aggiornamento pomeridiano perché stanno succedendo delle cose molto interessanti sui mercati, a dire la verità c'è un po' di incertezza perché come avremo modo di vedere dando un'occhiata ai mercati? Ai cambi principali, quindi ai cambi valutari principali, ci renderemo conto che arrivano indicazioni contrastanti, però volevo partire dall'S&P 500 per farvi vedere quello che è successo da stamattina. Come vi avevo detto anche nell'analisi di ieri sera, fin tanto che l'S&P 500 non esce da questo range, quindi dall'area compresa tra 2400 punti e 2630 punti, questo è un grafico a 4 ore, lo vedete, per me insomma sarà complesso prendere posizione, o meglio preferisco star fermo, preferisco non andare a operare perché in un'ottica di medio e lungo periodo qui siamo in una fase di incertezza. Quello che è molto interessante notare è che se guardiamo l'indicatore volumetrico, lo vedete qua il volume profile, l'S&P 500 sta lasciando un'area molto lavorata sicuramente dagli operatori istituzionali, e qualora appunto dovesse rompere questo livello di 2630, vedete che poi c'è un buco, solitamente questi buchi vengono ricoperti e quindi una situazione che potenzialmente potrebbe essere molto interessante. Stamattina quando ci siamo collegati avevamo gli indici leggermente in negativo, adesso vedete che sono tutti in positivo, guardate mi tolgo io da qua, abbiamo l'S&P 500 che in questo momento sta guadagnando 2,5%, stessa cosa il Dow Jones e stessa cosa il DAX. Resta un pochettino indietro il nostro indice italiano che sta per chiudere, vedete che comunque sta guadagnando 1,7% e poi qua vedete tutti gli altri strumenti. Allora per quanto riguarda i cambi, allora l'euro dollaro purtroppo il sistema stamattina ha dato un'indicazione operativa long che non è andata a buon fine, ma devo dire peccato perché, adesso lo vedremo, perché comunque avevamo almeno sino a stamattina un dollaro abbastanza tonico e quindi tutti i cambi principali, quelli dove abbiamo il dollaro, che stavano spingendo al rialzo. Invece l'euro dollaro stamattina è andato un po' per conto suo, quindi la correlazione con gli altri cambi è venuta meno e lo vediamo proprio da questa candela a 4 ore che è scesa con forza. Questo è un grafico a 4 ore, vedete che c'è quest'area volumetrica che è stata percorsa, adesso qua ha incontrato dei cluster volumetrici, quindi dei supporti, il primo a partire proprio da 1,10 che è un'area molto importante. C'è un tentativo di rimbalzo, vedremo se andrà a segno. Come avevo detto stamattina, non possiamo ancora parlare di inversione di questo mini trend rialzista perché fin tanto che non viene violato questo minimo, che vi sto indicando in area 1,09 e mezzo circa, non possiamo parlare di un'inversione di trend e quindi anche in questo caso ci tocca stare nuovamente alla finestra, infatti non sono arrivate altre indicazioni dal sistema. Andiamo a vedere la sterlina, la sterlina che invece, guardate, a differenza dell'euro-dollaro, e vedete come la correlazione, le correlazioni sono saltate, vedete che la sterlina stamattina, avevamo parlato di questa candela che stava andando a testare i massimi relativi precedenti. La sterlina bene o male si sta mantenendo su livelli molto interessanti, intorno a 1,24. Vedete che non c'è stata una discesa come nel caso dell'euro-dollaro, siamo in una fase di lateralità, quindi c'è incertezza e quindi anche in questo caso non abbiamo un'indicazione pulita. Ora, se andiamo a vedere adesso il neozelandese e poi l'australiano, ma partiamo dal neozelandese, stamattina avevamo parlato di questo livello di resistenza in area 0,60 e mezzo, vedete come sta lavorando molto bene, ha fatto scendere un po' le quotazioni, ma vedete anche che eravamo su un mini trend rialzista sul grafico a 4 ore, e in questo momento il trend rialzista sarebbe ancora valido perché? Perché stiamo ritestando il massimo relativo precedente, il minimo relativo precedente è molto distante, il primo livello di supporto su grafica a 4 ore che vediamo è a 0,59 e 54 circa, quindi stiamo parlando di una quarantina di pips eventualmente a ribasso. Però prima di andare a violare questo minimo ancora ce ne passa. E se guardiamo invece l'australiano, ci rendiamo conto che qui la situazione è differente. Si somiglia molto al grafico della sterlina contro dollaro, cioè una fase di lateralità, di compressione, che si sta formando su questo cluster volumetrico molto evidente. Siamo a ridosso di 0,62 e quindi anche qui vedete che il massimo relativo precedente sta reggendo molto bene e anche in questo caso non abbiamo ancora una chiara indicazione operativa. Diciamo che oggi c'è un po' di incertezza sul mercato, eccezionfata per gli indici che, come abbiamo detto, stanno spingendo. Se andiamo a vedere il petrolio che, come sappiamo, è correlato solitamente all'andamento dei mercati azionari, ci rendiamo conto che qui la correlazione invece oggi non c'è. Non c'è perché? Perché, guardate, siamo scesi ormai ai 20 dollari, questo livello l'abbiamo tracciato stamattina, sta reggendo, sta provando un po' a reagire, però vedete che la perdita odierna è del 7% e in rosso, vedete, del 7% e quindi vediamo un po' quello che succederà. Chiaramente qui la correlazione deve tener conto anche di quello che sta succedendo sempre e comunque tra Arabia Saudita e Russia che, insomma, stanno facendo una guerra sul prezzo del petrolio già da qualche settimana e quindi vedete che neanche il rialzo dell'azionario è servito a far risollevare la testa al petrolio e in questo caso andiamo a vedere il dollaro americano contro il dollaro canadese. Come vi avevo detto stamattina, ecco, questa poteva essere una situazione molto interessante da sfruttare che il sistema non ci ha dato, ma per quale motivo non ce l'ha dato il sistema? Perché il trend purtroppo era già partito stamattina quando è stato avviato il sistema, cioè c'era già stato il recupero di questo livello di 1,40 con questa candela che vedete, qui abbiamo una piccola inside, la rottura del massimo di questa candelina poteva effettivamente dare un bel segnare rialzista che in questo momento sta continuando, perché? Perché il petrolio chiaramente è debole, il canadese è direttamente correlato col petrolio e vedete che sta soffrendo e quindi di conseguenza il dollaro americano contro il dollaro canadese sale. Chiudiamo con il dollaro americano contro lo yen, anche qui guardate quello che sta succedendo, guardate questi cluster volumetrici come servono, perché anche qua siamo arrivati praticamente a 107, vedete c'era un supporto ed è partito un rimbalzo che chiaramente, ecco, qui invece la correlazione con l'azionario è tornata e stamattina cosa vi avevo detto? Che o ci stava mentendo l'azionario o ci stava mentendo il dollaro yen e quindi l'anomalia in qualche modo doveva rientrare, è rientrata nel pomeriggio con Wall Street, è rientrata positivamente perché come vedete adesso abbiamo anche un dollaro yen che sta spingendo al rialzo, abbiamo una variazione minima e in termini percentuali lo vedete lo 0,13% positivo comunque è importante, mentre il dollaro americano contro il dollaro canadese vedete che sta guadagnando quasi un punto e mezzo percentuale. chiudiamo con l'oro perché l'oro continua in questa fase di lateralità e io direi che questa è una situazione da monitorare ancora di più perché, lo ripeto, quando sull'oro si formano queste fasi di compressione la rottura del livello o di resistenza o di supporto, il supporto in questo caso è 1.590, la resistenza è 1.630, beh in questo caso la rottura al rialzo e il ribasso potrebbe effettivamente portarci un'accelerazione importante e al rialzo, qualora dovesse rompere il rialzo perché il trend comunque lo vedete è rialzista, il prossimo target potrebbe essere rappresentato nuovamente dall'area dei 1.680 dollari che sono i massimi battuti già diverse volte, passo sul grafico giornaliero, guardate, una volta, due volte, tre volte, quattro volte e poi da lì siamo andati giù. Quindi attenzione a seguire questo livello perché potrebbe essere veramente molto molto importante. Chiudiamo col DAX che come ho detto, sta guadagnando del 2.60%, è comunque in una fase di lateralità di più lungo periodo, o meglio dopo la forte discesa che abbiamo osservato nelle scorse settimane, poi qua addirittura c'era stato un recupero del 25% circa dopo una perdita che superava il 40% in poche settimane. Adesso il recupero sembra voler proseguire, però se andiamo a vedere questo grafico a quattro ore e ci rendiamo conto, guardate, si sta formando questa piccola area di compressione, un rettangolo e anche in questo caso ce lo segniamo perché sarà da seguire molto attentamente, perché anche qui l'eventuale rottura di quest'area che abbiamo appena segnato un po' più giù, eccola qua, potrebbe portare o a un'accelerazione al ribasso per andare a rivedere nuovamente 9.000 punti, oppure un'accelerazione al rialzo se dovesse eccedere il livello di 10.000 punti fino ai 10.500, che poi è il target che si poteva ipotizzare sul finire di settimana, sull'analisi che avevo proposto scritta, proprio perché il trend sembra aver recuperato un po' di smalto, però chiaramente abbiamo necessità che prosegua al rialzo Wall Street nei prossimi giorni vedremo. Oggi comunque, vedete, le variazioni percentuali sono importanti e vanno a incrementare ulteriormente il recupero che abbiamo avuto la scorsa settimana, giusto per darvi un'idea, mettiamo le candele settimanali, così potete apprezzare, guardate, quello che è stato il recupero della scorsa settimana. Certo, niente a che vedere con la forte discesa che avevamo avuto, giusto per farci un'idea. Allora, andiamo a vedere un attimo, a misurare quello che è stato, guardate, il calo sino ai minimi. Allora, stiamo parlando di un... che poi allora dovremmo prenderla da questo livello, giusto? Quindi andiamo a ricalcolarcelo più precisamente. Allora, da qua sopra, a qua sotto, stiamo parlando, guardate, di un 40% di perdita, che più o meno è quello che ha perso anche Wall Street. Quindi questo è sicuramente un movimento che non si vede tutti i giorni, anzi, lo si vede raramente. Vediamo quanto è stato qua il recupero. Su Wall Street abbiamo recuperato il 20%, qui abbiamo recuperato, guardate, circa il 26%, lo leggette. In questo momento, con la quotazione odierna, stiamo parlando un recupero dai minimi, toccati a 8.000 punti, del 22,72%. Ovviamente questa volatilità è una volatilità incredibile, lo vediamo dal VIX. Però, vedete, la cosa molto interessante del VIX, guardate, qua avevo segnato dei livelli già che arrivano, già qualche settimana fa, che arrivano dallo storico. La cosa interessante, ricordiamoci questo, VIX scende, vedete che sta perdendo 8,5%, i mercati azionari salgono. Questa è una correlazione inversa matematica, perché stiamo parlando della volatilità sulle opzioni dell'S&P 500. Quindi, se la volatilità aumenta, l'azionario scende. Se la volatilità decresce, come in questo caso, l'azionario sale. Però chiaramente, vedete che stiamo parlando di candele comunque molto, molto pronunciate, anche oggi c'è una variazione percentuale che supera l'8%. Questo significa comunque che, anche se abbiamo un recupero, la volatilità si sta mantenendo estremamente elevata e quindi bisogna stare molto, molto attenti nell'operatività quotidiana. Bene, allora direi che abbiamo terminato anche questa analisi. Allora, la prossima in calendario è per mercoledì mattina, però, visto che comunque il tempo a disposizione in questo periodo non manca, è molto probabile che vada a replicare anche domani mattina intorno alle 9. Quindi tra le 9 alle 9.30, l'apertura dei mercati, l'apertura ufficiale delle borse europee. Andremo a vedere insieme questi strumenti e andremo a vedere insieme se ci sarà qualche nuova opportunità operativa. Chiaramente, se il sistema dovesse darci qualcosa da qui alla chiusura di oggi, alle 23, chiaro che vi darò l'eventuale indicazione. Altrimenti ci aggiorniamo domani mattina e comunque se ci sono delle notizie importanti sul canale le avrete. La cosa che vi volevo dire è che stiamo già ragionando sui due webinar da fare questo mese. Vedremo se avrò con me un ospite, a prescindere comunque che ci sia un ospite oppure no. Sono dei webinar formativi. Andrò a concentrarmi nei primi due webinar, soprattutto nel primo. Andremo a vedere quella che è l'operatività sui livelli weekly, quindi quella che vi sto facendo vedere in questi giorni, e sui livelli daily. Come tracciarli, quali strumenti possiamo utilizzare. Vi ricordo ad esempio che TradingView è una piattaforma gratuita, con l'abbonamento base potete avere comunque molti strumenti a vostra disposizione, ma comunque non è necessario avere ad esempio l'indicatore volumetrico e un profile che vi ho fatto vedere per tracciare dei livelli di supporto e resistenza. Andremo a vedere come tracciarli, come utilizzare sul grafico weekly e poi andremo a vedere soprattutto come magari sfruttare questi livelli anche sull'intraday, su grafici orari. Non scendo sotto l'orario perché secondo me, insomma, poi scendere sotto l'orario non ha molto senso con questi livelli weekly, però vedremo che si tratta di supporti di resistenza che anche su grafici orari funzionano molto molto bene. Quindi questo è insomma una piccola anticipazione dei prossimi webinar che ci saranno nel mese di aprile. Le date ancora di preciso non lo so, non le so, dobbiamo ancora decidere le date esatte. Si pensava un webinar prima di Pasqua è il secondo nell'ultima settimana di aprile, ma vi manderò il programma e vi farò sapere quando appunto saranno questi due webinar. Niente, è tutto, io vi auguro una buona serata, insomma ringrazio Eugenio che si è collegato, ringrazio anche chi mi ha scritto che guarderà la registrazione, poi questi video vanno sul mio canale YouTube dove li vedono insomma anche altri utenti, ma chiaramente prima li vedete voi perché inizialmente sono impostati non in elenco, quindi ha accesso a questi video soltanto chi è iscritto al canale e poi dopo li renderemo pubblici. Niente, è tutto, io vi ringrazio, buona serata, ci sentiamo sul canale e poi a domani mattina. Ciao a tutti! Grazie a tutti!